Buongiorno, allora oggi siamo qui con mia nonna e come si dice che dietro ogni grande uomo c'è una grande nonna, direi che siamo anche qui per capire qual era la complicità tra loro due in tutta questa storia? La complicità, allora devo dire che in tutti questi anni questa complicità si è anche evoluta diciamo, perché quando ho conosciuto Romano sono rimasta affascinata dalle sue idee, del fatto che aveva sempre qualche cosa di nuovo da fare, da portare avanti e io ovviamente all'inizio lo guardavo un po' meravigliata, anche dubitavo a volte di questa sua capacità poi di fare tutto quello che pensava, ma in effetti devo dire che con gli anni devo ammettere che aveva ragione, perché con gli anni si è visto che le sue idee in fondo, anche quelle che non è riuscito a portare a termine, in effetti erano delle buone idee, magari c'è stata una mancanza di fondi oppure di persone, perché ovviamente non si fa nulla da solo, quello che ho anche io ho imparato diciamo in questi anni che poi appunto avendo sviluppato tutta la parte dell'accessoristica della Bugatti, ci vuole un team, la difficoltà è trovare il team giusto, le persone giuste e lì è l'esperienza che ti porta poi, no? E se però c'è questo feeling fra le persone si possono fare qualsiasi cosa, perché è giusto avere le idee, però poi ci vuole chi le elabora e chi le porta a termine. Ecco a Romano direi che è stato molto bravo ad avere l'idea, a entusiasmare le persone, a dare forza alle persone come l'ha dato anche a me, perché io da sola non mi sarei mai mossa diciamo così avanti che anche adesso quando io penso a quello che ho fatto non ci posso credere io stessa, perché dico non è possibile, però quando una volta uno entra in questo meccanismo del turno, non so come neanche spiegarlo, uno va avanti e finché va, va e per cui devo dire che è stato un periodo bellissimo, entusiasmante, creativo che a me piaceva molto, poi anche specialmente, diciamo che all'inizio ho cominciato con le costruzioni, perché avevo già un po' di pratica nel senso che io ero l'unica donna in tre famiglie di uomini, perché avevo un fratello maschio, un papà vedovo e un nonno vedovo, per cui tutti e tre avevano sempre bisogno di aggiustare la casa, di arredarle, di fare, per cui in questo campo un po' avevo i miei artigiani, le mie cose. Quando ho conosciuto Romano lui subito ha detto avrei bisogno di un magazzino nuovo, poi avrei bisogno di un ufficio più bello, poi ha preso in affitto al primo piano vicino al mille miglia, l'ufficio mi ha detto me lo fai tu, e così ero andata avanti seguendo appunto le costruzioni, c'è stato un periodo che avevo cinque cantieri aperti, per cui diciamo che, e poi sbagliando si impara, purtroppo uno dice adesso questo l'ho imparato per cui so, ma la volta dopo succede qualche cosa di un po' diverso, per cui è sempre facile sbagliare, però anche si impara col tempo, e così dopo quando Romano ha preso la Bugatti e c'è stata la necessità, perché io ho cominciato, che lui mi ha detto fai il museo, per cui di nuovo era costruzione, fai il museo, sempre aiutata da architetti, da geometri, da ingegneri, infatti io mi vanto sempre che mi dicevano, ah si vede che Campogagliano e la Ettore Bugatti avevano lo stesso architetto, e io dico non è vero, erano due architetti diversi, però eppure si vede una somiglianza in certe cose, allora io ho detto, beh, perché seguivo io, e comunque devo dire che Romano ha avuto un grande coraggio anche a darmi in mano tutte queste cose, perché io dicevo tante volte, boh non so se potrò farlo, e lui mi diceva, tu vai e fai, che sei capace, e io devo dire, forse sono una persona molto diligente, nel senso che se prendevo in mano una cosa cercavo di farlo al meglio, poi mi sono sempre data da fare, e per fortuna ho visto che nella vita bisogna sempre fare qualche cosa, perché se no il tempo passa così che non sai che cosa fare, invece quando tu fai e crei e segui dei lavori, qualsiasi lavoro, il tempo passa in un attimo, veramente uno, anche adesso a me mi sembra sempre che sia sempre lunedì o sempre sabato, perché la settimana passa a una velocità super veloce, e poi appunto da lì, dal museo della Bugatti, a un certo punto c'era l'avvocato dei Marchi, che era Telchini, che naturalmente veniva da me e diceva, signora qui noi se non produciamo niente perdiamo il Marchio, perché bisogna fare questo, e allora abbiamo cominciato con la penna, con gli occhiali, anche perché avevo scelto poi un direttore che proveniva dalle occhiali, dalla Safilo, e per cui lui naturalmente intendendosi molto di occhiali mi ha detto facciamo degli occhiali bellissimi, eccetera, e siamo partiti con questi accessori, e infatti poi abbiamo ampliato naturalmente in tutte le categorie necessarie, perché persino lo champagne era per difendere la categoria alimentare, perché sennò c'era soltanto, mi ricordo, un deposito in Giappone per il tè, di Bugatti, che poi lui ci ha lasciato, devo dire, molto gentilmente, e per non fare degli alimentari che non avessero senso abbiamo detto facciamo uno champagne Bugatti, naturalmente tutti pensavano che avrei fatto uno spumante della nostra casa di famiglia, perché era anche la cosa più semplice, però io ho detto eh no, sarei Bugatti, bisogna fare il meglio e deve essere champagne e non spumante. Ho chiesto naturalmente l'aiuto di mio fratello che aveva fatto lo spumante, per cui sapeva bene, e abbiamo scelto poi un francese che fosse diciamo non legato a delle case madri, capito, delle case di lusso così, era il primo diciamo più importante dopo Saivev Clicquot e tutte queste marchi diciamo grandi e devo dire che ci ha fatto un bellissimo champagne e abbiamo curato lì alla Ettore Bugatti diciamo i colori, abbiamo messo il blu Bugatti, abbiamo messo un po' dell'oro eccetera. A mio fratello, a mio fratello devo dire la verità, non è piaciuta la bottiglia, troppo femminile, troppo, lui mi ha detto non è seria e io ho detto però a noi piace così, poi non lo so perché non ho mai avuto critiche, però forse non me l'hanno mai detto che non piaceva, A me piaceva molto la bottiglia e anche il packaging eccetera. E così siamo andati avanti poi di categoria in categoria, devo dire con successo perché poi abbiamo aperto i negozi e purtroppo alla fine abbiamo dovuto chiudere anche noi anche se avevamo mi sembra più di una decina di negozi in apertura che aspettavano di poter aprire e avere il consenso. L'ultimo che avevo aperto è stato quello di Onolulu e il padrone del negozio di Onolulu mi aveva detto che voleva aprire in tutte le isole dell'Hawaii, era già pronto. Infatti io gli dissi guardi che non so se potremo continuare perché ci sono dei problemi e lui mi ha detto non è possibile, Madame Bugatti, io ho detto non sono Madame Bugatti, per me lei è Madame Bugatti, mi ha detto. E per cui niente, dopo non abbiamo più potuto continuare perché le banche ci hanno tagliato, ci hanno chiuso i conti dicendo che in fondo facevamo parte della stessa finanza, però se no, perché io avevo detto ma anche se dovesse chiudere la Bugatti Automobili, dico noi i nostri disegni lo fanno capo a Ettore Bugatti, noi abbiamo sempre tirato fuori tutto dall'archivio eccetera. Ecco diciamo che il mio lavoro più grosso era quello di seguire tutti i vari designer, architetti che ci aiutavano nell'accessoristica, di controllare che seguissero quel fil rouge che erano i disegni di Ettore Bugatti e non che mettessero dello stile proprio, perché tutti sono tentati di voler mettere la propria impronta e noi abbiamo spiegato che doveva esserci una continuità in tutti i prodotti. Doveva essere un prodotto Bugatti, non un prodotto del XY. E diciamo che questo era il compito più, perché se no diciamo c'erano i product manager, c'erano i venditori, c'erano tutto che funzionava, però la tendenza anche del produttore, non so, di pelletteria o di gioielleria, di qualsiasi cosa, volevano fare cose che per loro era più redditizio e magari appiccicare solo il marchio senza seguire le linee che invece facevano capire che era un prodotto Bugatti. E lì bisognava proprio stare molto attenti e controllarli molto, cosa che mi sembra che siamo riusciti a fare. Allora, praticamente sappiamo che hai creato tutti i prodotti dello stile di Ettore Bugatti, spaziamo dallo champagne alle penne, però comunque tutto questo era connesso col mondo delle automobili e com'è per te far parte di questo mondo dell'automobile? Diciamo che forse fin da bambina avevo a che fare con le automobili, perché i miei genitori, oltre che mio padre, oltre che avere una cantina vinicola che portava il nostro cognome, aveva anche la concessionaria della Lancia, e per cui si sentiva sempre parlare di auto nuove, si cambiavano i modelli, mi ricordo che un giorno è venuta anche con una Buick che mi faceva venire un mal di mare terribile perché era molto morbida, eccetera, e per cui diciamo quando ho conosciuto Romano non è che io ero proprio digiuno dell'automobile, il fatto che lui mi parlasse di automobili mi sentivo molto in casa, e devo dire che ho subito avuto un feeling con lui, in effetti lui dopo 15 giorni che ci siamo frequentati mi aveva già chiesto di sposarlo, poi abbiamo aspettato un po' a dirlo ai miei genitori, l'ha detto Romano in agosto a Siusi che avevamo questa casa in montagna, e mio padre ha detto adesso viene la vendemmia, e quando c'è la vendemmia non ci si, come ha detto non ci si sposa e non ci si segna, perché non c'è tempo per fare niente, e allora abbiamo poi rimandato all'aprile dell'anno dopo, cioè lui mi ha regalato bellissimo anello di fidanzamento, perché come tutte le cose di Romano non potevano essere cose piccole, erano sempre cose grandi, mondiali, e per cui anche diciamo, insomma, devo dire che ho subito trovato questa intesa con lui e l'ho seguito nelle sue cose, prima la Opel, che mi ricordo la prima macchina che mi ha portato in giro, io che venivo dalla Lancia mi sembrava un armadio con quattro ruote, perché aveva ancora il cambio sul volante a tre marce, tre marce, mi ricordo, invece la Lancia aveva già la cloche, per cui insomma diciamo che, però Romano era bravo perché lui veniva anche da una macchina sportiva, perché le prime macchine che lui ha venduto erano delle Alfa Romeo, per cui i suoi clienti erano Alfa Romeo, e lui aveva difficoltà a vendere le Opel, che erano più macchine di famiglia, così, però si inventava sempre qualche cosa, infatti poi ha fatto le Opeliadi, dove io dovevo aiutarlo per invitare tutti i clienti Opel, per fare delle gare, gym can e robe, eccetera, e lì abbiamo fatto, mi ricordo, le prime manifestazioni, poi sono diventate sempre più grandi, e per cui quando dopo lui si è espanso, prendendo la rappresentante della Suzuki, poi della Subaru, poi quella della Bugatti, no, della Ferrari, e poi per ultimo quella della Bugatti, ovviamente il nostro carrozzone di manifestazioni, di cose era già molto avviato, no, e naturalmente, dalle Opelie di fare le Ferrariadi, non è stata una cosa complicata, no, infatti quando poi abbiamo lasciato, quando è morto Ettore Bugatti, no, scusa, Enzo Ferrari, che abbiamo dovuto lasciare la Ferrari, perché è venuta la Fiat, la Fiat ha detto, non abbiamo più bisogno di voi, perché facciamo tutto da noi, e mi ricordo che l'ultima manifestazione è stata al Nürburgring, con tutte queste, non so, centinaia di Ferrari rosse, che abbiamo scritto, Viva Enzo Ferrari, ed è stata la prima volta che abbiamo scritto, Viva Enzo Ferrari, perché prima scrivevamo solo Viva Ferrari, non sapendo che quel giorno, lo stesso giorno, sarebbe morto anche lui, per cui è stata proprio una coincidenza stranissima, che mi fa ancora rabbrevidire pensarci, e lì Romano poi ha detto ai suoi clienti tedeschi che noi avremmo lasciato la Ferrari e che sarebbe venuta la casa madre, per cui ancora avrebbero potuto fare più cose che noi, e invece loro si sono messi quasi a piangere. Infatti poi, per un caso strano, un anno che siamo andati a presentare la IB 110 a Monte Carlo, perché andavamo quasi sempre al Gran Premio che c'è in maggio, e stavamo facendo la Corniche e ci siamo fermati da sopra per la vista su Monte Carlo, volevamo fare delle foto in questo albergo, che non mi ricordo più come si chiamava, e c'erano tutte le Ferrari che si erano fermate anche lì e abbiamo incontrato i nostri vecchi concessionari. E questi, quando ci hanno visto, ci hanno fatto una festa che non finiva più. Naturalmente hanno guardato la macchina, eccetera, e tutti continuavano a dire no, noi ci siamo sentiti veramente abbandonati quando ci avete lasciato. Per cui ci hanno anche commosso, perché erano passati un po' di anni, eppure ci hanno fatto grandi festeggiamenti. E cosa vuoi che ti racconto ancora? Io so, nonna, che in questi anni ti è toccato fare di tutto con il nonno, quindi... Ah, certo, questo è vero, perché lui mi spronava sempre a tutte le sue idee, no? Devo dire che mi divertivo anche, perché per esempio all'inizio aveva preso, oltre che il fuori bordo della Zodiac, sai, i gommoni, che naturalmente a Bolzano non c'è il mare, bisognava impacchettarli, metterli in macchina, andare al lago di Garda, fare... Allora ho fatto la patente nautica, perché sennò non si poteva fare la presentazione dei... come si chiamano questi Zodiac, insomma, che avevamo di rappresentanza. Poi ha preso quella delle motoslitte, e allora anche quelle... Andavamo all'Alpe di Siusi per fare la presentazione, ne abbiamo vedute parecchie, quasi tutti gli alberghi hanno preso queste motoslitte per portare sui bagagli, gli ospiti, specialmente i rifugi più in alto. Se non che, quando facevamo delle salite, molto cosa non ce la facevano, no? E allora Romano scriveva sempre alla ditta guardate che sono troppo deboli questi motori. Siccome erano macchine americane che però avevano la base in Europa, in Belgio, allora in Belgio montagne non ce ne sono, per cui dove provavano loro le motoslitte? Sulla sabbia. Per cui facevano le dune. E naturalmente tutti questi, come si chiamano, quelli che provano le motoslitte, i collaudatori, i collaudatori dicevano che andavano benissimo, che noi non sapevamo come funzionavano. A Romano a un certo punto ha detto venite qui, fateci vedere, perché così impariamo. E sono arrivati due collaudatori dal Belgio, mi ricordo. E allora noi, per non andare troppo lontano in montagna, siamo andati a Bolzano, lì alla seggiovia del Virgolo, dove arrivi su al colle, che è un posto che io praticamente non frequentavo, non conoscevo neanche, ma c'era in mezzo al bosco questa pista che andava fino su in cima. e a un certo punto Romano ha detto bene, andate quassù, perché noi dobbiamo vendere le motoslitte sul colle. E questi partivano, si ribaltavano, non ce la facevano, eccetera. Allora si gira e mi fa fai vedere tu Renata come funzionano. E allora io sono partita all'inizio tutta bella spavalda, poi però diventava sempre più ripida questa cosa, per cui bisognava fare in zigzag e ovviamente saltare dal predellino destro a quello sinistro a seconda della curva e tenere sulla motoslitte che non scivolasse giù come hanno fatto la brutta figura loro. Se non che ero talmente tesa che il mio dito si era bloccato credo sull'acceleratore finché non sono arrivata su che quasi con un salto che col salto mi si è staccato perché credo che dalla paura che avevo preso io stessa di come sono andata su e questi sono rimasti naturalmente meravigliatissimi e mi hanno detto ma come ha fatto questo è qui andare su. Dico che avevo vent'anni allora insomma o poco di più per cui queste cose si facevano come no. E naturalmente poi da questa cosa poi abbiamo deciso che dovevamo prendere a me diciamo che a me è sempre piaciuto volare e allora io ho sempre chiesto ai miei genitori se potevo andare a fare il corso di pilota e loro mi dicevano troppo pericoloso no casa poi sai altri tempi non sono i tempi di oggi e invece quando mi sono sposata con Romano ho detto cosa dici se facciamo il brevetto di volo e lui subito naturalmente solo che poi lui aveva meno tempo di me per cui era sempre in ufficio io andavo quando allora facevo la spesa in un supermercato vicino all'aeroporto perché così io facevo la spesa la lasciavo in macchina poi guardavo l'ora e dicevo boh c'ho un'ora posso andare a volare capito e per cui andavo lì e ho preso il brevetto prima di lui cosa che gli ha dato molto fastidio abbiamo fatto prima il primo grado e poi abbiamo fatto il secondo grado in lingua inglese mi ricordo perché si poteva poi volare e poi siamo partiti insieme con questo piccolo aereo dell'aeroclub e siamo andati fino in Spagna a trovare i nostri parenti spagnoli solo che a un certo punto abbiamo preso un tempaccio quando siamo arrivati sull'Atlantico che non si vedeva nulla infatti dovevamo stare bassi e vedere le onde del mare e a un certo punto ho detto Romano ma se qui c'è una vela becchiamo il bastone da quanto eravamo bassi sull'acqua per riuscire a capire dove dovevamo andare perché a un certo punto seguivamo la costa finalmente siamo arrivati a Bilbao a Bilbao avevano chiuso l'aeroporto per il brutto tempo e allora noi abbiamo chiesto il Mayday Mayday e ci hanno aperto le luci dell'aeroporto e ci siamo buttati subito giù e abbiamo atterrato addirittura in una pista di rullaggio neanche nella pista vera perché già la pista di rullaggio ci sembrava enorme in confronto a quella di Bolzano in confronto a quella di Bolzano per cui siamo atterati lì e da quel momento Romano mi ha detto ma forse sarebbe meglio prendere un aeroplano un po' più stabile stabile con tutte le perché quello dell'aeroclub era ancora un volo a vista e poi abbiamo preso appunto il Mitsubishi il B2 che era un aeroplano piccolino però aveva sei posti o otto posti addirittura perché c'erano due sgabelli che si potevano aprire che era fortissimo come aeroplano molto veloce anche tutto però non potevamo prendere uno più grande perché la pista di Bolzano era quella che era per cui era l'unico che riusciva ad atterrare però abbiamo fatto dei viaggi abbiamo portato l'Isabella in Scozia in un college e insomma diciamo che avevamo la possibilità di andare fino credo a Mosca fino cioè senza dover fare carburante per cui era un bel aeroplano naturalmente poi Romano l'ha usato per lavoro visto che si era in quel momento aveva preso stava trattando la Bugatti a Parigi avevamo l'auto expo in Germania per le Ferrari doveva andare a Madrid lì per la Sant'Ana in Spagna quindi un sacco di avanti e indietro sì sì mi ricordo che un giorno è partito la mattina è tornato la sera e aveva fatto tutti i paesi per andato a firmare a Stoccarda la posta andato a Madrid a parlare con la Sant'Ana è tornato la sera e devo dire che l'aeroplano l'abbiamo usato però avevamo anche un pilota prima era un pilota da caccia che era simpatico ma un po' matto e poi abbiamo preso un pilota dell'Alitalia mi ricordo l'ultimo però tu sai che noi abbiamo fatto tutto in un giro di 6-7 anni per cui diciamo che poi con tutto quello che è successo abbiamo dovuto vendere anche l'aeroplano peccato perché era divertente se per quello prima ancora dell'aeroplano abbiamo comprato i motorhome americani abbiamo anche fatto le importazioni dei motorhome americani che in Italia non esistevano e per cui li abbiamo importati da lì erano mi ricordo che ho fatto anche delle fiere dove io spiegavo più che altro gli interni più che il motore perché erano della General Motors o dei doge su cui avevano applicato questi motorhome e mi ricordo che venivano tutti a vedere l'aspirapolvere che io estraevo e passavo l'aspirapolvere così che nessuno aveva mai visto che era incassato dentro sotto nel motorhome e poi insomma il microonde venivano tutti a vedere questo microonde che in Italia ancora non c'era e io nel motorhome avevo questo microonde venivano a scaldarsi i wurstel e le robe tutti gli altri che esponevano si divertivano dicono cos'è sta roba io dico volete vedere come te ho detto un minuto finito tutto bello caldo ma insomma ce ne sarebbero da raccontare di cose ma ma sicuramente ti sarà anche capitato di guidare un po' di macchine ah certo le lees ho cominciato devo dire che ho provato tutte le macchine perché all'inizio Romano mi dava i usati che dovevano vendere per cui non spendeva niente mi faceva usare e anzi io dicevo guarda che qui non funziona questo non funziona quello per cui mettevano a posto poi diciamo che la prima macchina che mi ha comperato è quando è nata la Elena e io ho detto come mai adesso tutto d'un tratto mi dai una macchina nuova e dice ma adesso sulla macchina c'è mia figlia io non contavo allora la macchina doveva essere la nuova ah grazie e per cui diciamo tutte anche la Ferrari mi ricordo però era una vecchia Ferrari che aveva venduto in America e siamo andati lì proprio all'inizio inizio che siamo andati a Genova a imbarcarla e a certo punto mi fa guida tu e io ho detto no io la Ferrari non la voglio guidare no ma se io sono stanco adesso guidi tu e proprio era quel pezzo di autostrada che va giù verso Genova che è tutto curve pazzesche eccetera e mi ricordo questo sterzo che non aveva servosterzo per cui era come guidare un camion devo dire la verità ci volevano le vare però è stato entusiasmante per me capire che potevo guidare anche quelle e quando mi disse per la prima volta guida la Bugatti io ho detto no no la Bugatti se poi io la tocco te la rompo eccetera e io ho detto ma sarà mica peggio della Ferrari e mi sono stupita che invece era come una macchina normale cioè se tu acceleravi subito però frenavi anche subito per cui tu potevi andare anche a 250 all'ora però ti fermavi subito se trovavi una macchina perché in autostrada ogni tanto provavo le cose però anche in città come quando ho presentato il negozio nuovo di Milano Romano mi ha detto beh parcheggia davanti la Bugatti no? che così c'è e io ho detto vabbè volentieri avevo un po' paura perché dico in città semafori roba traffico biciclette di tutto dico e invece è proprio era una macchina molto facile da guidare e mi ricordo appunto lì un particolare divertente che mentre io appunto arrivavo un po' prima di arrivare al negozio dopo un semaforo riparto e vedo questa macchina che avevo di fianco due signore di sedute dietro che parlavano al telefonino che hanno visto sta macchina e si sono messi a guardare hanno visto che c'era una donna alla guida di questo superbolide che era la Bugatti hanno aperto il finestrino e hanno fatto brava brava così e mi è venuto da ridere per cui sono arrivata ridendo davanti al negozio parcheggiato e poi sono entrata e abbiamo fatto l'inaugurazione abbiamo tagliato il nastro eccetera ecco questi sono dei piccoli anedoti che mi ricordo così parlando mi vengono in mente ce ne sono tanti ma penso che non interessi a nessuno insomma per cui invece com'è guidare l'Elise non è proprio la stessa cosa beh l'Elise quella è stata una macchina ancora divertentissima molto divertente quando la capota è aperta perché uno la scavalca entra dentro esce fuori ed è divertente proprio la guida dell'Elise perché è quasi come un go-kart e devo dire che mi piaceva molto l'unica cosa che quando eravamo in Inghilterra alla mattina tutti sparivano con le macchine di servizio che aveva la Lotus e mi lasciavano l'Elise per andare a fare la spesa che non aveva bagagliaio per cui io poi che compravo per tanti perché eravamo in tanti avevo mi ricordo il sedile qui di fianco pieno di sacchetti uno sopra l'altro per cui dovevo guidare tenendo questi sacchetti che non mi caschassero in testa con una mano per fortuna il supermercato era vicino alla casa e poi scaricavo le cose ma il divertimento era invece quando arrivavo al supermercato che cercavo sempre di parcheggiare in un posto dove non c'era gente perché se avevo i tacchi facevo fatica ad uscire certo e allora dovevo togliermi le scarpe col tacco uscire col piede rimettermi la scarpa e ovviamente non era una cosa molto elegante da far vedere per cui cercavo sempre di scendere dalla macchina in suplex oppure andare con le scarpe basse esatto conosciamo questo problema esatto però era una macchina molto divertente mi divertivo molto con l'Elise quando potevo fare dei giretti e non andare a fare la spesa diciamo infatti che quella era proprio l'Elise che ho io adesso sì in effetti era quella è vero mi ricordo quando vivevamo in Inghilterra anche se i ricordi sono vaghi che mi avevi accompagnato in fabbrica a fare le foto certo ma devo dire che ti divertivi perché io mi ricordo ho fatto tutto il giro in tutti i reparti perché ti facevo vedere facevamo le foto ovviamente però perché Romano già aveva progettato di metterti poi dentro nella macchina per cui già prima voleva far vedere voleva riprenderti in tutte le sezioni dell'evoluzione della macchina eccetera e per cui io andavo con te e tu ti divertivi eri curiosissima guardavi cioè non eri una bambina che aveva paura o che si nascondeva anzi eri allegra sorridevi ti mettevi lì bravissima anche la presentazione a Francoforte si vede che mi alzo sono proprio orgogliosa orgogliosa di essere lì tu avevi già capito a quattro anni che che tu eri non so la protagonista di qualche cosa capito avevo capito che era una cosa importante che era una cosa importante infatti l'unico momento dove tu sei andata in crisi mi ricordo quando abbiamo fatto la foto di tutte le persone che tu eri bravissima lì dentro nella macchina brava poi siccome la gente non seguiva mai bene quello che si diceva e quelli che facevano le riprese volevano che tutti compattamente andassero lì e allora lui ha deciso di fare il contrario dal logo uscite fuori e marcia indietro così poi io faccio il reverse e si vede e allora quando tu hai visto che tutti se ne andavano tutti in giro e tu restavi da sola lì nella macchina a un certo punto hai cominciato a piangere allora io sono corsa dentro a prenderti e tirarti fuori dalla macchina d'altra parte avevi tre anni e mezzo quattro due e mezzo quando abbiamo presentato le list figurati dopo eri no sono bei ricordi devo dire molto belli bei ricordi sono contenta di far parte di questa storia mia nonna per me è sempre stato un punto di riferimento mi ricordo che da piccola dovevo scrivere un tema su chi era mio supereroe e ho detto mia nonna perché lei sa fare tutto e mi ricordo che ho descritto perché dicevo lei sa volare sa fare pure sci d'acqua ed ero proprio entusiasta che lei sapesse fare qualsiasi cosa infatti io ho sempre voluto essere come mia nonna grazie grazie a tutti